Dopo il video diffuso a maggio che mostrava gli spogliatoi allagati a causa di una doccia malfunzionante, il consigliere comunale della lista civica L'Ecco Ideale, Filippo Boscagli, torna a denunciare la mala gestione, a sua detta, del Centro Sportivo Comunale. Ieri le giovanili dell'Ecco sono state cacciate dal Bione, così come è già successo a Marzo, denuncia Boscagli. Nessun passo avanti, anzi, si torna sempre indietro. Ieri abbiamo assistito a una nuova pagina della sopopera del Bione. I ragazzi delle giovanili dell'Ecco sono stati messi alla porta e non hanno potuto allenarsi. Noi, dopo le Olimpiadi, abbiamo chiesto di investire nell'educazione sportiva dei ragazzi, perché può essere davvero una risposta alla gravissima emergenza educativa a cui abbiamo assistito durante il Covid. Invece le tre parti in causa, Comune, Gestore del Bione e Calcio Lecco, si trovano di nuovo ai ferri corti. Chi paga questo sono i ragazzi e le famiglie che, arrivando dall'Ecco, ma anche da Sondrio, si troveranno, rischiano di trovarsi a dover svolgere gli allenamenti perfino a Milano. Tra tariffe aumentate per un servizio spesso indecoroso, manutenzione discutibile, lavori che non decollano e anni e anni di mancati investimenti, continua Boscagli. Le tre parti in causa sembravano aver trovato una quadra tra comunicati stampa e foto di rito, e ora invece mettono alla porta i ragazzi. Noi chiediamo che le tre parti in causa, cioè Comune, Gestore e Calcio Lecco, trovino assolutamente, immediatamente una soluzione, perché le giovanili della città possano allenarsi nell'impianto comunale del Bione, facendo finalmente terminare questa incredibile sopopera del centro impianto sportivo comunale.